Ma bentornati su una nuova puntata di Whatsapp Economy. Oggi parleremo dei fantastici 550 miliardi stanziati dalla Germania in favore della propria economia. Ma prima di entrare nell'argomento mi piacerebbe un po' contestualizzarlo, quindi capire cosa sta succedendo nel mondo e in che situazioni economiche ci stiamo trovando. Facciamo finta che il mondo sia composto solo da Europa e Cina, che si scambiano beni e servizi a vigenda, come fino ad adesso è stato fatto. Ad un certo punto arriva un virus che costringe intere città e regioni alla chiusura. Milioni e milioni di persone sono costrette a rimanere in casa. Di conseguenza l'economia cinese rallenta, diminuendo anche gli scambi commerciali con l'Europa. Quindi possiamo trarre già la nostra prima conclusione, e cioè che anche se il virus non fosse arrivato fin qui, gli effetti che ha avuto nella Cina si sarebbero riversati anche sulle nostre economie. Infatti già da febbraio, quando noi eravamo impegnati a prendere in giro i cinesi che cantavano dai propri balconi, fatto che ci indica che tutto il mondo è paese, i processi produttivi delle nostre imprese iniziavano a scricchiolare, perché molte componenti dei nostri prodotti vengono dalla Cina, e se alcune imprese della Cina chiudono, beh, avranno delle ripercussioni anche sui processi produttivi delle nostre imprese. Questo fenomeno in economia viene chiamato crisi dal lato dell'offerta, ed indica il fatto che le imprese non riescono più a produrre quanto vorrebbero, non riescono più ad offrire al mercato i propri prodotti nella misura più esatta. Però in Cina non si sono fermate solo le imprese, infatti il governo cinese ha costretto le persone a rimanere in casa, modificando le abitudini di consumo delle persone, ovviamente andando a diminuire il potenziale di consumo di ogni singola persona. Questo ha generato appunto una diminuzione dei consumi sia nel mercato interno cinese, ma anche nel mercato esterno, e quindi nel mercato europeo. Questo fenomeno viene definito in economia crisi dal lato della domanda. Praticamente ci dice che le persone non domandano più al mercato le stesse quantità di beni e servizi che richiedevano prima della crisi. Praticamente non comprano più come prima. Pian piano però il virus si sposta in Europa, amplificando i due effetti appena citati, e cioè la crisi della domanda e dell'offerta. Le abitudini di consumo delle famiglie iniziano a cambiare. Preferiscono più risparmiare rispetto a consumare beni e servizi. In un primo momento questo fenomeno è dovuto sia a un fattore di panico, ma anche a una poca fiducia nel futuro. In un secondo momento è dovuto al fatto che il governo, anche in Italia, costringe le persone a rimanere in casa, modificando drasticamente le abitudini di consumo delle famiglie. La crisi sanitaria colpisce anche l'offerta. Le imprese, soprattutto quelle dei servizi, sono costrette a lavorare in smart working, che non è un metodo di lavoro usuale, e quindi è legittimo pensare che la loro produttività diminuisca. Inoltre le fabbriche, o comunque il settore industriale, è costretto a lavorare con personale ridotto, per rispettare le condizioni sanitarie imposte dal governo. Quindi una crisi sanitaria sta creando una crisi economica, sia dal lato della domanda, ma anche dal lato dell'offerta, e sta generando dei fenomeni a cui il mondo non era preparato. Le borse finanziarie di tutto il mondo stanno perdendo valore, e anche i beni rifugio come l'oro non si stanno comportando come di solito si comportano in questi casi. Quindi possiamo vedere come la situazione è estremamente complicata, e un singolo fenomeno può essere spiegato da molteplici fattori. In più è bene sottolineare ai nostri banchieri centrali dal divano che le banche centrali inglesi e statunitensi hanno tagliato i tassi di interesse, e nonostante ciò le borse sono crollate comunque. Quindi le cose sono molto più complesse di quanto ne parliamo al bar, come al solito. Ok, analizzato brevemente e non esattivamente il contesto in cui ci troviamo, arriviamo sul pratico. Scendiamo a livello microeconomico, a livello aziendale. Qual è il problema che stanno affrontando tutte le aziende? Stanno affrontando un problema di liquidità. Ah, avete visto? Manca moneta nel mercato! Maledetta banca centrale europea! Deve immettere più liquidità! No. Infatti il concetto di liquidità in economia ha due significati. Il primo è sicuramente quello della quantità di moneta all'interno di un mercato, ma c'è anche il concetto di velocità di scambio della moneta. Ed è secondo il vero problema che stiamo vivendo adesso. Infatti in una situazione normale, un'impresa ha continuamente entrate e uscite di moneta, e se è sana, tendenzialmente avrà più utili e quindi avrà più entrate rispetto alle uscite. Però questa non è una situazione normale. Infatti molte imprese in questo momento si trovano ad affrontare molte uscite, come pagamento di stipendi, affitti, pagamento dei fornitori, oneri finanziari, tasse, eccetera, eccetera, ma non riescono a generare entrate che compensano le uscite, o comunque riescono a generarle in maniera inferiore rispetto a prima. Questo problema è rilevante soprattutto per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese possono permettersi un risparmio maggiore mentre fanno utili, e quindi sono meno soggette a questi tipi di shock così negativi. Quindi facciamo un breve recap prima di andare verso l'attualità e commentare anche la Germania con i suoi 550 miliardi. Fino al 2019 l'economia mondiale non era in crisi, aveva i suoi problemi che non stiamo qui a discutere, ma comunque non era una forte crisi, e tendenzialmente aveva una sua crescita economica. Se però questa crisi sanitaria si prolungherà per più tempo, potrà generare dei danni economici a livello globale. In tutto ciò, cosa sta facendo l'Europa? Ce lo dice l'Europa stessa in un documento redatto il 13 marzo dalla Commissione Europea. Prima di andare a commentare brevemente il documento che lascio in descrizione se volete approfondire l'argomento, è bene specificare che la politica economica europea è molto meno rigida di quanto possa pensare l'opinione pubblica. Ne parlavo anche in un vecchio video in tempi non sospetti quando facevo la differenza tra bilancio strutturale e bilancio annuale e tutti i limiti di bilancio e quanto questi siano flessibili. Anzi, i vincoli di bilancio sono ancora più flessibili quando un paese, non solo la Germania ma qualsiasi paese all'interno dell'eurozona, sta attraversando un periodo di crisi. Proprio come la sta attraversando adesso l'Italia e probabilmente questa crisi si espanderà all'interno di tutta l'Europa. Una crisi che abbiamo visto che ha dei caratteri eccezionali e per questo la Commissione europea ha deciso di instaurare delle politiche economiche eccezionali. L'Europa utilizzerà tutti gli strumenti necessari per assicurare il funzionamento del sistema sanitario, supportare le persone nei loro lavori e nei loro stipendi in modo che non siano attaccati sproporzionalmente dalla crisi, supportare le aziende e assicurare la liquidità necessaria per superare questo momento di crisi e permettere a tutti gli stati, quindi anche compresa l'Italia, un'azione decisa e nella piena flessibilità delle regole europee. Dare un supporto ai cittadini e alle aziende, in particolare piccole e medie imprese, per affrontare al meglio questa crisi economica dovuta al Covid-19. È consigliato ad ogni Stato membro di prendere misure come sussidi ai salari, sospensione dei pagamenti delle tasse, come ad esempio l'IVA, oppure i contributi sociali, come ad esempio l'Inps per l'Italia. Ancora possono finanziare direttamente i consumatori che hanno subito un danno dalla cancellazione di eventi o servizi in generale dovuti appunto a questo Covid-19. Infine la Commissione Europea raccomanda l'utilizzo della politica fiscale da parte di ogni Stato nel caso ci fosse una crescita negativa o un grande calo dell'attività economica. Quindi sostanzialmente l'Europa ci dà pieno supporto a tutti gli stati, non solo all'Italia o non solo alla Germania, a tutti gli stati membri dell'Unione Europea perché capisce l'estrema difficoltà del momento. In questo contesto dove la Commissione Europea lascia briglie sciolte ad ogni Stato per affrontare al meglio questa crisi sia sanitaria ma anche economica, come stanno raggendo ogni singolo Stato? Ovviamente ci soffermeremo su Italia e Germania. Ma prima di affrontare questo discorso è bene specificare che non stiamo ad una partita di calcio, a chi segna di più, a chi spende di più. Non hanno senso i paragoni. Ah lui ha speso 25 miliardi e l'altro 400. Bisogna spendere quanto necessario e non più del necessario. Se la Francia ha bisogno di 20 miliardi e noi di 40 che si spendano questi 20 e 40 miliardi senza fare paragoni inutili, ogni economia verrà colpita in modo diverso ed è giusto adottare strumenti diversi in base a quelli che sceglierà il governo e immettere nell'economia i giusti soldi per ricompensare le attività che stanno subendo delle gravi perdite economiche, ma non più del necessario e non meno del necessario. Quindi ogni paese avrà la propria cifra necessaria e questi paragoni sono veramente da bar o da, non lo so, bar dello sport a livello calcistico e niente più. Ora, entriamo nel dettaglio. L'Italia sta spendendo solo 25 miliardi? La risposta è no. Infatti stiamo vivendo un periodo in continua evoluzione e questi 25 miliardi di più deficit che non rientreranno nel conteggio del debito pubblico e che verranno concessi dall'Europa sono solo una prima tranche. La Commissione Europea e il governo si sono già messi d'accordo per aprire di nuovo un nuovo dibattito ai primi di aprile e stimare nuove perdite economiche e supportare con altri soldi ulteriori a questi 25 miliardi. Quindi no, l'Italia non sta spendendo solo 25 miliardi per questa crisi e basta. È un processo in continua evoluzione e man mano che si contano le perdite economiche lo Stato e la Commissione Europea cercherà di ricompensare a dovere. E adesso passiamo all'argomento Germania e i suoi 550 miliardi stanziati all'economia. Iniziamo a chiarire un attimo le cose. Questa cosa... La Germania, attraverso una sua banca pubblica, ha comunicato al mondo che si appresta a stampare 550 miliardi di euro per sostenere l'economia. È una cagata. L'emissione di moneta è ad esclusivo compito della Banca Centrale Europea. Quando voi andate a chiedere un prestito, dalla banca privata o pubblica che sia, questa banca non sta creando moneta, ma semplicemente la sta trasferendo dalla Banca Centrale Europea al vostro conto corrente. È un semplice trasferimento, non è una creazione di moneta. E in più questi soldi non vengono dal nulla, bensì sono il capitale sociale di un'importante banca pubblica tedesca, che sarebbe la KFV. Questa KFV è molto simile alla Cassa Depositi e Prestiti. Se volete approfondire l'argomento vi lascio in descrizione un articolo che approfondisce. È un argomento un po' tecnico di cui non mi voglio dilungare, ma sostanzialmente è molto simile a una Cassa Depositi e Prestiti e appunto ha un capitale sociale che può arrivare fino a 500 miliardi. Il compito della KFV, proprio come la Cassa Depositi e Prestiti italiana, è quello di sostenere l'economia nazionale tramite tutta una serie di attività finanziarie. Il sostegno alle persone e alle imprese non avviene in modo diretto, ma è mediato dalle banche private. Quindi la banca privata, grazie alla garanzia della KFV, può fornire prestiti alle persone, anche se queste persone devono rispettare dei criteri molto stringenti per poter accedere a un credito agevolato. Quindi la Germania non sta emettendo nessuna moneta, perché quei 500 miliardi provengono da un capitale sociale già esistente di una banca pubblica. In più questa moneta non viene fornita direttamente, bensì tramite delle banche private. In più abbiamo detto che sono dei prestiti. La KFV non regala soldi e questi prestiti devono essere rimborsati. Quindi eventuali perdite della KFV vengono esclusivamente dalle persone o imprese che non possono essere esolvibili. Caso però remoto, perché per accedere al credito della KFV deve avere delle condizioni particolari che generano un prestito molto sicuro e quindi difficilmente non rimborsabile. Inoltre questi 500 miliardi sono solo una disponibilità che ha la banca pubblica tedesca, ma per adesso non è stato speso neanche un euro all'interno dell'economia reale. Quindi questi 500 miliardi sono solo a disposizione delle imprese. Magari potremo tranquillamente scoprire che alla fine della crisi le imprese tedesche avranno chiesto solo 100 miliardi ad esempio per far fronte a questa crisi di liquidità. L'obiettivo di questa banca pubblica tedesca quindi è proprio quello di cercare di risolvere il problema che abbiamo citato all'inizio del video e c'è quello della liquidità. Sostanzialmente sta cercando di tappare i buchi alle aziende che hanno uno scoperto di entrate. Il bilancio della KFV non rientra nel debito pubblico tedesco proprio come il bilancio della Cassa Depositi e Prestiti non entra nel debito pubblico italiano. Anzi l'altro giorno anche Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato che implementerà delle nuove azioni economiche per supportare l'economia per tutti quei problemi che abbiamo citato precedentemente. Quindi sostanzialmente la polemica sta a zero. La Commissione Europea ha concesso a tutti gli Stati membri di spendere quanto necessario per far fronte alla crisi sia sanitaria che economica. L'Italia ha risposto nel proprio modo quindi stanziando dei primi 25 miliardi che non significa che siano gli ultimi e mettendo in campo anche Cassa Depositi e Prestiti. La Germania altrettanto ha messo in campo questa KFV con questi primi 500 miliardi ha annunciato che potrebbero essere illimitati proprio perché questa KFV riesce a emettere obbligazioni quindi riesce a recuperare dei soldi dal mercato per questo si dice che sono infiniti perché fino a quando il mercato gli dà i soldi questi soldi possono essere utilizzati a sostenere l'economia. E in più avendo un debito pubblico molto basso rispetto all'Italia e avendo risparmiato durante tutti questi anni si potrà permettere la spesa pubblica necessaria per far fronte alla crisi. Basta polemiche inutili! Per concludere citiamo due scenari possibili di come l'economia europea e anche mondiale potrà risollevarsi alla fine di questa crisi sanitaria. I scenari ipotizzati dagli economisti sono due e ovviamente estremi e nel mezzo ci sono tutta una serie di sfumature. Quello più ottimista è uno scenario AV cioè dopo una forte discesa dell'economia ci sarà una grande risalita quindi formando una vera e propria AV. Questa cosa se ci pensate è effettivamente plausibile visto che molti eventi e molta della produzione che si era programmata in questo periodo è stata semplicemente spostata a un periodo successivo. L'importante però a che avvenga questo scenario è che la politica economica intervenga in maniera celere e che questa crisi sanitaria sia la più breve possibile per non creare troppi danni all'interno del sistema economico europeo, italiano ma anche mondiale. L'altro scenario pessimista che vi ho un po' spoilerato è quello della distruzione di una parte del tessuto produttivo causato appunto da questo prolungamento dell'interruzione delle attività economiche. Da questo scenario è molto difficile riprendersi e ci saranno veramente delle sfide ardue da affrontare anche perché veniamo da una crescita economica molto particolare non mi voglio dilungare però diciamo che portava con sé alcuni rischi che se questo covid-19 farà emergere ancora di più lì saranno dei problemi abbastanza seri. Vedremo come andrà, nessuno saprà come andrà effettivamente perché la situazione si evolve di giorno in giorno. Io ho cercato di riassumervi in modo molto coinciso e anche abbastanza frettoloso diciamo cosa è accaduto fino ad adesso e alcune polemiche veramente sterili riguardo l'Europa, l'Italia, la Germania e le classiche cose no euro e sovranisti vari. E niente, siamo alla fine del video io spero di essere stato abbastanza chiaro e ci vediamo al prossimo video teniamo duro e alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.